recensito in giardino ciao a tutti e bentornati a recensito in giardino oggi vi presentiamo il questa motosega elettrica della greenworks la gd 40 tcs quella che abbiamo qui oggi è un'anteprima dato che verrà commercializzata da marzo 2018 monta questa batteria da 2 ampere e 40 volt viene inserita semplicemente nella slitta una piccola pressione e viene e viene bloccata questo modello che abbiamo qui oggi monta una barra da 30 centimetri e con passo di catena tre ottavi quella che verrà commercializzata avrà una barra da 25 centimetri e il passo catena da un quarto come tutte le motoseghe hanno il doppio interruttore per la sicurezza per evitare l'accensione accidentale monta un freno di catena di tipo meccanico nella parte in avanti la motosega è bloccata quando viene tirato indietro la motosega può funzionare come vedete al tatto rimane molto leggera come come pesi e ben bilanciata vediamo come funziona motosega ben bilanciata il peso siamo sui due chili e tre direi una buona macchina grazie per questa recensione ci vediamo alla prossima